Elion Chatillon presenta il quartetto Cetra Allora d'accordo, il cliente di ogni nazione qui deve sentirsi come a casa sua, capito? Capito! Tu guarda questa cosa dici, da che parte verrà? Che graziosa piccolina birichina ma però Chissà, 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 chi è? E' francese, canadese, ma francese non si sa Chissà, 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 chi è? Ma guardate, non vedete come ballano i due tre? Io so, io so, io so chi è Ma la cosa vesti qui tra noi Tra noi, tra noi E' vienese perché molto bene sa il balzer ballar E' vero Su presto indossiamo un bel frac Più gente di medaglie fatta E un paio di bamboni all'insù Di certo le andremo di più Cosa desidera? Cosa ha la sfida a venire qui? Vorrei comprare Ma certamente dica subito cos'è Vorrei comprare So prendi quella cosa e fagliela vedere Vorrei trovare un ricordo da portare via con me E noi l'aiuteremo Di te c'è, di te c'è Questo no, che ci fa? Che ci fa? Di te c'è Non mi va Ma che ci fa? Ma che ci fa? Ma che ci fa? Guardi lì, quello lì Quello sì, quello sì, quello sì Oh Dan che c'è, dan che c'è Vorrei tanto sapere cos'è Che cos'è Che cos'è Che cos'è Che cos'è Cosa Che cos'è Elion? Che fibra! Elion nella biancheria Se si boh Poche fibra speciale Elion nelle calze Se si boh E' un filato di chic Elion negli impermeati Se si boh Tutto il mondo lo sa E' di gran qualità Elion nella biancheria Che fibra!